due ma non hanno raccontato assolutamente niente quindi per me sarebbe giusto come domanda domanda confermi ciò che dicevo sul coragei del tempo addietro secondo me ha fatto tanti passi in avanti a livello di character quindi no ok per me da quando si è tuffata di testa dal wargames avevo capito che ha l'immagine per essere una star da wwe ma non ha tutte queste dodi atletiche e io ho visto degli ulteriori passi in avanti a livello di immagine con il personaggio da cattiva però rimane molto acerba non è ecco nella divisione femminile di nxt di nxt nuovo manca una star perché abbiamo le toxic attraction che hanno catalizzato tutto durante l'ultimo anno però effettivamente non c'è quella persona che tu guardi e dici ok è il futuro della divisione femminile non di nxt ma della wwe non c'è proprio e quindi spero che vinca roxanne che si passi ad altro perché sono andate anche un po troppo lunghi secondo me vincerà mandy rose perché mandy ha avuto un regno lunghissimo almeno a noi ci sembra molto lungo la realtà è che non è arrivata ancora ad un anno da campionessa e lo scorso anno vinse il titolo proprio dell'ovin evoc ma scorso anno e l'ovin evoc era un pochino più avanti nel calendario degli eventi quindi comunque se perdesse contro alba fire non arriverebbe ad un anno e sono le classiche statistiche alle quali l'alb in qualche modo tiene quindi secondo me alba fire è stata scelta appositamente per fare un match solito dal punto di vista lottato visto che è lo meno che sarà un premium live event a tutti gli effetti però al tempo stesso non è il capitolo conclusivo del regno di mandy rose e poi abbiamo prima del main event mi sa che ho soltato un match l'ambulance match l'ambulance match credo che i street brothers siano destinati a rimanere ancora nxt per un po e non non riesco a vedere brutus e julius separati e soprattutto non riesco a vedere se proprio uno dei due dovesse andarsene da nxt oggi questo sarebbe julius creed ovviamente e non brutus quindi ovviamente sarà una vittoria una sua vittoria contro daimon camp che però mi ha stupito nell'ultimo mese perché era un personaggio totalmente anonimo che nel ruolo da hill invece si sta trovando veramente a suo agio e il main event invece il per il pronostico vi rimando a next big thing primo perché non mi posso sparare tutte le cartucce oggi che siamo inizio settimana secondo perché in realtà è ancora molto teso e sono curioso di vedere cosa succederà nel gom show che ci potrà dare qualche indicazione in più perché adesso potenzialmente secondo me tutti e tre i contendenti hanno buone chance di di riuscire a portarsi il titolo a casa cioè sempre cristiana che ci dice se man di avessi dovuto vincere ci mandare un'altra donna e non alba prof secondo te invece non lo so secondo me è il momento siamo arrivati al momento giusto per cambiare il titolo secondo me è una paura che ho anche io onestamente per quanto non ritengo alba fire pronta anche per il tipo di personaggio che ha sinceramente invece riguardo un altro match della card lampo dice io penso invece che a pollo faccia una bella giobbata per vuole almeno me lo auguro difficile anche perché tempo dietro non so leo se rimembri e citai waller come uno dei possibili nomi che potrebbe in un certo qual modo prendere la leadership dello spogliato di nextino cioè lo vedo come un elemento utile per starsene lì anni e anni e aiutare magari le nuove leve dato che credo da quello che vedo non lo reputo almeno un personaggio non propriamente futuribile o perlomeno non effettivamente un main eventer anche lì ad nxt no prof come vai vai leo vai no cito solamente il l'ultimo episodio del waller effect prima ho parlato di cora jade contro l'exemperes come una rivalità che non aveva nulla da raccontare è bastato l'inserimento di grayson waller per riaccendere un pochino l'intensità di questa storyline e credo che questo sia una caratteristica fondamentale del personaggio di grayson waller perché vuol dire che puoi poggiarti su di lui anche per riuscire a vendere delle star che stanno formando il proprio personaggio è un demitz è un demitz di nxt praticamente si non so messaia vuoi i miei pronostici o li fai voglio voglio due pronostici per poi passare ernesto perché poi a te devo chiedere un'altra cosa riguardante smetta perfetto e allora per me come vi ho già detto deve vincere albafire anche se questo potrebbe comportare al passaggio di tre è una perdita di tre lottatrici verso il man roster e in questo momento non so quanto spazio potrebbe esserci per loro perché se passano passa penso tutta la toxic attraction oppure potrebbero fare uno sguervone e con il ritorno di sonia de vil cacciare mandy anche se all'interno devi farla comunque perdere mandy eh sì mandy deve perdere mandy deve perdere e tra l'altro è l'unico match senza stipulazione quindi non so se annunceranno qualcosa magari in questa puntata di nxt oppure no è l'unico è l'unico match senza stipulazione perché alla fine il triple threat è comunque un no disqualification quindi è l'unico match senza stipulazione poi concordo con leo per quanto riguarda il ladder match secondo me quasi sicuramente vincerà wesley e quello che mi auguro è per amore del cielo cioè io da quello che ho visto mi sembra più probabile una vittoria Nathan Fraser però mi augurerei wesley dato che vogliono pubblicizzarlo un po come l'apollo creed della situazione però mi sembra troppo ovvio mi sembra un po troppo ovvio e poi vado con le le carte più semplici e i Julius Creed contro Damon Camp credo sia abbastanza sicuro che Creed vinca anche se do ragione a Leo perché Camp ricordiamo era un tizio che è stato preso e messo dentro la diamond mine non c'era nessun motivo se non sbaglio lui è stato preso per sostituire boa il tizio cinese come si chiamava no quello che è andato in ore hit aspetta quello che faceva da manager a mus in ring of honor mi sa suzuki quasi i dechi suzuki a lui è stato praticamente tolto nel famosi nel famoso gruppo di licenziamenti pesante ed è stato eh buttato camp lì dentro che andò per caso in una puntata nel UK è una lista talmente pesante che non ricordiamo neanche il nome ecco c'era pure Tyler Rust sempre dentro la diamond mine cioè veramente tanta gentaccia e vincerà però se tu vai a parlare con gli haters quelli erano tutti nomi importanti tu hai tolto il lavoro alla gente però va bene e poi quindi Apollo Crews contro Waller allora secondo me da questa storyline in base al match che ci sarà ad Halloween Evoc capiremo anche se Waller fa parte della Wyatt Six o meno perché tutti quanti dicono che lui dovrebbe essere o potrebbe essere uno di quelli che fa parte della Wyatt Six anche perché il Corvo la la Poiana era Waller era palesemente Waller con la sua camicia era era lui io mi auguro quindi che vinca Apollo anche perché gli manca una una vittoria importante ad NXT e quindi deve deve prendere un po e credo anche io un blindfold match ci potrebbe stare oppure anche un lights out cioè tutto spento e loro che combattono solamente in ringo tutto spento ci potrebbe stare abbiamo sono rimasti due match solamente io voglio parlare prima di Breaker contro Dragon contro Black Donald perché gli altri ho un altro discorso qui come Leo sarà interessante capire che cosa succede martedì martedì notte perché secondo me veramente citando il buon Brown Breaker hanno 33,3% tutti quanti di vincere cioè è reale Breaker può vincere può continuare il suo regno come può vincere Dragon of che è quello realmente che non ha mai perso la cintura oppure può vincere McDonagh che è quello che era che è diventato il contender battendo bait hanno veramente tutti la stessa percentuale di vincere io di mio spero che vinca io spero che vinca Dragon of però non mi dispiacerebbe anche se vincesse McDonagh Breaker io lo vedrei un attimino ridimensionato perché se fai battere anche loro dopo che gli hai fatto battere anche bait praticamente abbattuto tutti lo puoi mandare contro Lesnar nel man roster e via quindi mia auguro che che vinca che vinca McDonagh anche per dare un pochino di ricircolo con i face perché tu in questo momento hai avuto Breaker face e quindi hai mandato solo il contro mandando McDonagh che comunque è un è un il hai un giretto di face che ti puoi giocare lo stesso Grimes se non sale hai ehm oddio Carmelo che alla fine non è che era proprio propriamente il ultimamente quindi ne hai di gente da potergli mandare eh in realtà se non ti interrompo vorrei potenziare questo 33,3 per cento di di Breaker ricordando ancora Carmelo Ace perché è vero c'è la sensazione che se Breaker vincesse anche ad Halloween Evoke non gli sarebbe rimasto più nessuno da sconfiggere o comunque non ci sarebbe più quell'heel di punta attorno al quale puoi far girare a NXT per un po' e invece c'è Carmelo Ace che proprio in questo evento finirà la sua storia con il titolo nordamericano quindi non mi sento di escludere neanche Brown Breaker ok ok e e poi l'ultimo match che secondo me è quello costruito meglio cioè Roxanne Perez contro Corajade ovviamente citando il messaglia dato che lui è il super esperto di Impact hanno copiato palesemente quanto successo ultimamente ad Impact perché il Pick Your Poison è successo praticamente due due settimane fa prendendo facendo lo stesso discorso andando a prendere due persone al di fuori di Impact nel caso della WWE due persone al di fuori della del roster di NXT messaglia io starei un po' attento al promo di Steiner non so se c'è qualche parolina bannabile o altro io non me lo ricordo non rimembro parole però aspetta che forse trovo allora d'accordo but I got a 66 and two-thirds chance of winning because Kurt Angle knows he can't beat me and he's not even going to try so Samoa Joe you take your 33 and a third chance minus my 25% chance and you got an 8 and a third chance of winning and sacrifice but then you take my 75% chance of winning if we used to go one-on-one and then add 66 and two-thirds chance I got 141 and two-thirds chance of winning and sacrifice Joe the numbers don't lie and they spell disaster for you and sacrifice fantastico fantastico e dicevo è un qualcosa che è successo poco fa però è stato costruito bene perché tornando al discorso iniziale che abbiamo fatto NXT ha un particolare raccordo con il main roster hanno detto palesemente andate nel main roster andate a prendere una persona da Raw e una persona da SmackDown e portatela da noi per lottare è una cosa geniale perché tu hai permesso di far conoscere due persone una settimana scorsa Roxanne e una questa notte che è Coragiaid al pubblico e a quanto pare una come Roxanne Peres è stata apprezzata tantissimo dai da da quelli del backstage in Leah SmackDown perché? perché è una che ci sa fare e lei e io lo dico apertamente non non mi interessa di altre cose puoi fare quello che tu volevi o provavi a fare con Sasha Banks perché il fisico è lo stesso magari ti manca qualche centimetro però è molto più brava secondo me Roxanne e ha fatto il punto di parte di Sasha e Sasha non era male cioè Sasha pure sul ring era capace di vendere la storyline sul ring però ragazzi Roxanne c'ha vent'anni Roxanne c'ha vent'anni si 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 ha tutto il tempo di crescere anche Paige ha vent'anni però poi si è si è lasciato andare in un certo qual modo perché comunque però Sasha ha un'altra presenza secondo me cioè Sasha può fare un film può essere un'attrice Roxanne Perez Roxanne Perez è AJ quella presenza lì non ce l'ha AJ Lee del di di quel periodo lì che c'era ecco il programma il programma principale sapete qual è forse che Sasha ha commesso lo stesso errore di Paige ma ha avuto dal punto di vista di tirarsela intendo ma ha avuto la furbizia però di vincere prima cioè nel senso Sasha ha avuto